Sulle date sul fine vita, la nostra posizione, la posizione di possibile è sempre la stessa dal primo giorno, quella che abbiamo portato avanti anche insieme a Max Fanelli, liberi fino alla fine, quello di poter decidere fino all'ultimo giorno della propria vita, fino a che si ritiene essere dignitosa. Quindi abbiamo presentato una proposta di legge che è diventato un test unificato insieme a tutte le altre che sono arrivate nelle settimane successive e nelle prossime ore, speriamo, arriverà l'esame dell'aula. Non sarà una battaglia facile, ma sarà una battaglia che porteremo avanti fino all'ultimo e speriamo di poter fare questo piccolo passo in avanti in cui l'Italia è indietrissima rispetto a tutto il resto del mondo.